ragazzi buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di yakuza like a trego abbiamo appena iniziato e quando ci stanno già i soggetti che ci vogliono picchiare e poi ci sono quello della missione dell'eroe part time che adesso lo facciamo questo deve morire con un solo colpo teoricamente questi sono non ci fanno niente ok vedete questo qui c'ha una missione questa qui passiamo un po' giusto giusto un attimo la voce perché sennò mi sa che è troppo alto parliamo con questo vedi rapporto part time miro ma non c'abbiamo nessuna missione quindi questa qui è una cui si consegnano le missioni andiamo a farne ne andiamo a fare una tipo questo qui e dove stava il mandare qua andiamo e dove stavano i senza detto questo però bello maragosto quando che ti pizzica buona nancy nancy il bambino era il vostro? Sì, la riuscita con le mie due mani, l'ho fatto. Su nome è Nancy. Normalmente, stiamo spettando il vicino insieme, e facciamo un esercizio. E questa piccola piccola è stata la mia unica bambina di speranza in questo vero, strumento, strumento. Oh, Nancy! Dio, mi sono davvero scoperto. Se io avessi che fosse importante a te, non avessi mai fatto questo. Io ho capito. Tu l'ai fatto con buoni intenzioni. Inoltre, è il mio scopo di prendere le mie ozze. Beh, non vedo qui. L'afforzata come è, probabilmente è venuta per bene. Ma non dimenticare molto sui. Sono solo un altro nono. L'afforzata come, non vedo qui, e non vedo qui. Non vedo qui, Sì, è sicuramente generoso di te, ma puoi trovare davvero? Beh, posso dare una scuola. Grazie, andrò a te farò. Oh, e io è Hebehara, chiamare queste strade a mia casa. Se ti prendeteci a Nancy, potresti venire a me trovare a me da Sakura River Street? Questo è il mio posto usuale. Ovviamente, e io sono Kasuga, sarò tornare con Nancy in tempo. Una cosa che vorrei dire è che Nancy ha una scuola X-shape sull'altra. Questo aiuta? Una scuola X-shape sull'altra. Sì, grazie. Ho spero che non si vado a farlo. Se sono successo, troverò la scuola in alto. Ma ora me la fa vedere sulla mappa, penso che sì. Sarà sicuramente qua. Vero? Ragazzi, andiamo. Andiamo a cercare Nancy. Ma chiediamo a questo. Scusa mica per caso di suonare... Hm? Ma forse è un minigioco. Nella visione in prima persona, la modalità ricerca attiva puoi muoverti con L e guardando intorno con L. Trova la vera Nancy-Chan. R-T-Focus. Cosa è questo? Cosa è questo? Ehm? C'ha una X però. No! Cosa è questo? Questo c'è un triangolo. Cosa è questo? Questo pure c'è un triangolo. Ma questo c'ha un cerchio. No! 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 Sì Adesso lo andiamo a incontrare L'unica cosa è che visto che stiamo qua dove stiamo? Ah no, il bar sta qua sopra e qua c'è un'altra missione Andiamo a vedere se il tizio è quello là Certo Non li possiamo evitare Ma questi sono di livello veramente Quello però era un nemico di tipo nuovo Sono tutti e due di tipo nuovo Ok Questo è un insetto, falena Perfetto Perfetto Tu e Nancy Cuidiamo Oh, non puoi restare un tempo? Stavo a cominciare a cuocere E sarebbe più di felice di trattarti Grazie per trovare un tempo Non lo so Oh, non sei modesto Stavo a cominciare un prezzo per qualche tempo Quindi Stavo a dire Che più 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 Penso che potrei stare e tenere un po' Allora Ma prima di arrivare al corso Perfetto 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 No ragazzi Questa cucina Nancy Questa cucina Nancy Questa cucina Nancy Questa cucina Pelle Perfetto Palla Pagano Pagano Perfetto Perfetto Una piaccia Sì, e inoltre, stai ottenendo una maniera gratta, quindi... Cosa vuoi secondi? Sì, passare. Sei un vero pezzo di lavoro, ragazzi. In ogni caso, siamo solo calzati. Il nostro corso principale oggi è quello che chiamano... ...eviharis... Ehi, cosa c'è da fare con Nancy? Cosa altro? Ho detto che stavamo prezzando, non? Nancy, qui è il corso principale! Cosa? Hai perduto? Hai pensi che hai chiamato? Oh sì, io l'ho dimenticato. Questa ciazzetta è la sua parte della resta. È la più gustosa che ho mai visto. Quindi, è proprio una cucina per te? Sì, noi noni ragazzi, i crawfisti sono un god, e per farlo e fatta, ho usato di giocatore giorni per riusciare i piedi. Ho ho lavorato così forti per la cucina per una cucina. Tu dovresti dire questo prima! Pensavo che era il tuo figlio, ragazzi! Perché altrimenti dovrei riuscire la mia assa per trovare? Ha, 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 ha! Non è vero! E qui, tu arrivi la prima parte. Tu sei davvero, Ichiban. Ma... ...il primo crunch di una nuova crustacea! Ecco qua! Guardate un secco! Guardate con te! Frenta le due al rio! and I've been waiting for days on end to sink my teeth into dancing and I can't think of much else that would give me that kind of satisfaction. Damn. However, if someone were to bring me something just as tasty, I might reconsider. Perhaps I could be persuaded with... I don't know if... I'll be here with sushi, she said. Oh, come on, now you're just milking it. Sorry son, I don't have many options here. A premium sushi set would really set me right. Unless you're in 10 on kissing Nancy goodbye. Okay fine, I'll bring you your goddamn sushi. Please do, don't be long. Also, if you want to buy sushi new. It's the meter of sushi. Uh, we want to buy sushi. Oh no! Oh yeah! Oh yeah. Do you need a dinner! I'd like to buy sushi. On a Friday, I'll add sushi to the kitchen. Oh yeah! This is a creamer. coreano quindi non va bene questo penso che nemmeno ce l'ha però non vedi non non c'è una cosa che ci tiene le quest dove la vai a trovare i cosi succesi andiamo da questa perché la freccia affinitata tra vagabondi aspetta un secondo oh i hate when the garbage piles up detracts all the crows don't hate the crows they're just trying to get by you know in fact crows are pretty smart they've even been known to stop rummaging through trash if they see the moment in legame interesting i didn't know any better i'd say you have a soft spot for them no what can i say we're birds of a feather when it comes to digging through the trash yes everyone has a flock ok questo qua l'abbiamo fatta non ti mi lavoro con la borsetta autostima livello 1 aspetta però volevo vedere lascia il tesoro con 200 yen oh questi danno di più adesso andiamo a vedere probabilmente questi qui sono quelli che dobbiamo s os sakura river denaro ma forse questi sono più forti di quelli normali però siamo quattro ok borsettata borsettata ma scusami e 10.000 dollari con finesse mi termine di esibizione oh ce li è andati 10.000 dollari questo il problema è che qua ci sta pure un altro gioco ma non lo facciamo adesso perché dobbiamo fare dobbiamo trovare due cose adesso dobbiamo trovare il un set di sushi send posizioniamo un attimo la puntina giusto per vedere se per caso c'erano pure i negozi normali su cosa di sushi vede mo ha perso la missione nel senso che come faccio a riprendere che fa questo perché mi vuole parlare questo ci dà un'altra missione un amore per cui lottare ah guarda io ho detto che hai la vera idea ok terracotta son solo lasciate lo vado ma non c'è bisogno di andare a ripartare ragazzi ora non andiamo a tornare in line Ora non è il titolo di anagosto. No. Questo sarà di livello 10, 11. Questa cosa è qua. 15. Riusciamoci l'attacco. Secondo me così lo facciamo già male senza nessuna tecnica. Allora ragazzi guardate la quantia non c'abbiamo. Abbiamo preso anche la tecnica tenace dell'eroe. Yo. Quindi questa è una menza solo per i senza dritto. Questa non ce lo dà il set di sushi special. Ma diamoci 2.000 yen così se ne vanno. Si chiamano Onigidi qui quasi. Ehm? 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 Però non lo so come funziona. Ehm? 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 ma ci sono sempre cose da prendere parliamo con questo rapporto non ci sono missioni da fare rapporto ok vediamo questo che tiene 7 oh guarda adesso cosa compriamone un po' di questi compriamone 5 stanno adesso i soldi di deniamo però non c'avevano il sushi vediamo invece un attimo questo qui attività vedete e queste sono quelle secondarie scusa vediamo un attimo 6 quelle lì con queste qui significa che l'ho fatto queste qui ancora le devo prendere proprio e queste qui significa che sono aperte probabilmente giusto esatto ma quante sono queste secondarie 52 missioni secondarie perfetto l'unica cosa è che questo qui non ci dice questo è raggiungere lo work questo bisogna trovare i chiodi e il legno però probabilmente l'abbiamo fatto però non ci dice quanto ne serve andiamo a consegnare un secondo perché là ci sta pure ci sta pure questo ristorante magari c'è il coso di sushi premium anche se la ci potevamo andare una volta vediamo questi quanti sono forti ma questo è più forte forse il bombarolo era debole dal fuoco però è proprio cavaliere alcolico mega colpo al bombarolo così dovrebbe non ci devia tutti quanti e questi abbiamo aggiunti anche al pokédex quindi non ce l'avevamo però perché inizia sempre con questo assolutamente gli yen stanno aumentando ragazzi quindi si possono spendere andiamo a vedere per caso se questo tiene com'era? il set di sushi premium ma non penso scegli dal menù ragazzi ragazzi il set di sushi premium non lo riusciamo a prendere al ristorante perché quello che abbiamo al ristorante secondo me lo consumo sul posto lo dobbiamo andare a comprare dentro dentro ah tipo qua vedi? non ci sta il set di sushi premium quindi lo vende un ristorante molto probabilmente vediamo qua se il tizio dove muovere oh what a quiz oh Sì 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 Quindi il legno non è il legno che raccogliavamo, è il legno che ci davano questi Ok Questi devono essere di livello abbastanza basso, credo Rafforziamo l'attacco di quest'altro, ok? Ok Questo ne dovrebbe fare fuori un po' Venga colpo a questo qua Questa è un po' Questa è un po' Andiamo a correre Go Andiamo Questa è il tizio triste Perché ci mancano i chiodi Perfetto Andiamo qua Andiamo qua Vediamo se ci vendono Due armi Ok Tubo di ferro Tubo di bambù Forse casual Allora Allora Questa giacca sicuramente la compiamo Allora Andiamo a questa Questa no, questa no Scopa di bambù Ehm Vogliamo comprare Compriamo Adesso Grazie 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 Abbiamo Ehm Scusate Gli accessori Guanti di cotone Ok Gli fischi di destrezza Sono sempre buoni Ehm E basta Poi questo qua C'è la giacca Ah, quindi A qualcosa è servito Namba Pure E' servita Koishi Ok Eishiban Siamo messi a posto Siamo diventati Un poco più forti Andiamo avanti Andiamo a Affrontare quest'altra missione Guardate questa cosa Questo mi sembrava tipo Gundam Ok Ehm Tornare 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 Tornare Secondo me Dobbiamo eliminare Prima quello Di livello Questo qua E Abbassiamo l'attacco Dobbiamo Eliminare Prima questo Di livello 16 Ehm Assalta i piccioni Ehm Assalto i piccioni Ehm 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 Visse C'è Ok Forse c'è o Il la scuola è gradismatica la scuola è la difesa la scuola è la scuola la scuola è la scuola la scuola è la scuola la scuola la scuola è la scuola è stoffa spessa aumenta alimenti no evidentemente non serviva questo dobbiamo trovare un casco a seco ok quindi qua abbiamo fatto tutto probabilmente il set di sushi si trova dentro un bar qua dobbiamo ritornare qua dobbiamo ritornare perché non ce l'abbiamo visto a trisushi questo negozio qua già l'abbiamo visto andiamo qua dai ma probabilmente non ci sono la scuola è che 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 e infatti adesso li facciamo direttamente così possiamo diventare molto più forti per qualche motivo vorrei skippare a questi vediamo se ci riusciamo dobbiamo attraversare la strada perfetto c'è un'altra volta la tizia dobbiamo parlare con questo hey hmmm ah ah allora che ti sposti a noi hey Sì Sì Ma non potevano farlo da solo Lavorava dal fioraio Missione ruffiano Conclusa con successo Siamo toliti il tizio Sta dicendo Mi piacciono i fiori Quello dice anche a me tantissimo Ok se il mio carico è deciso Forse dopo ci dobbiamo ritornare Vediamo questo che dice Ok Ci ha trattato da pezzenti Però di tutto ciò Io direi di passare per di qui Così ci vendiamo il coso gratis E poi dobbiamo andare a vedere Chi può vendere il sushi Secondo me lo vende quel negozio Che eravamo Che era super carico Ragazzi vi ricordate? Era super caro Che stava più o meno Qua? Aspetta un secondo E questo qua che roba è allora? E questo fa il pollo Questo qua sicuramente è Perché ci abbiamo tre missioni Ci abbiamo quello là dei chiodi che sta qua Quello là del ruffiano che sta qua E quello là della ragosta che si consegna là Però dobbiamo andare a comprare Sicuramente il sushi sta là E se non sta là sta in uno Di quei altri locali che sono lontanissimi Quindi la costa la facciamo un'altra volta Però andiamo a vedere Anche perché più o meno Dalla strada dei chiodi Ma che questo scapezza serve? E secondo me dovremmo anche incominciare A utilizzare i taxi Perché sennò Dobbiamo camminare in giro per la città Per sempre Vediamo un secondo Allora Allora Dobbiamo Set Di sushi Premium Qua non c'è E quindi non sta qua E quindi non sta qua Questo è un McDonald's Non è Manco questo Questo qua è l'unico che potrebbe essere Nel momento E poi vabbè Ehm Vabbè ricordiamoci che dobbiamo prendere Un set di sushi Andiamo a fare Questa cosa qui E poi dopo Continuiamo La missione principale Proviamo ad affrontare questi Vediamo che livelli sono Ok Questo sta ancora nel negozio Guardalo Guardalo C'è C'è No No, poi ce li diamo di un colpo Poi ci abbiamo fatto molto bene a comprare quella scopa, sono stati 3000 dollari investiti benissimo Questa qua non c'era il set di Sushi Prime, non sicuro Passandola E qua potrebbe essere Ma io non capisco ancora come si decide l'ordine di attacco però Ci deve essere qualcosa che non influenza Sicuramente è una delle... forse la destrezza Oh questo è dei nei chiodi, vedi? Malviventi Spezza d'orso A questo Forse questo qui c'ha la resistenza ai danni corpo a corpo Perciò ci facciamo questi pochi danni, altrimenti non si spiega Ehi Grazie Ci abbiamo pure i chiodi Usiamo... Dobbiamo andare Sicuramente è là Però proviamo a usare un taxi I taxi si muovono solamente all'interno dei distretti Ah qua ci sta quello la del... Oh oh una malicetta Centine di cipolla Ma quello lì non aveva detto che... Dobbiamo arrivare un attimo fino a qua Ciao Ehi Andiamo all'interno del l'ordine Ehi 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 Però questi scontri qui non ce li dobbiamo fare sempre, io non ho capito E qua c'è un'altra missione secondaria C'è un'altra missione? Vi diamo fuoco Definitivamente sarebbe difficile avere questo nel quartiere, spero che non sia lungo Ma che dobbiamo fare? C'è solamente detto questa cosa alla Vediamo un attimo qua su In questo parcheggio non c'è nulla Andiamo qua Questo è il parcheggio dove prima abbiamo fatto la missione e ci stava il gioco là vicino Andiamo a portare i chiodi e le assi Andiamo a portare il gioco 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 E ci stava Andiamo a portare il gioco Questa è una menso Non è una libreria Non è manco verniciata Oddio il ragazzino Grazie Aumentiamo sicuramente la bontà O qualche altro attributo Grazie Isezaki Road Quindi anche nelle missioni secondarie Raggiungi Isezaki Road E chissà dove si trova Da qua fuori Prendiamo il taxi ragazzi Non l'abbiamo mai preso Ok Vogliamo andare Ah ma questo ci porta solamente Non ho capito perché Forse Riprendiamo il taxi Dobbiamo prendere un altro taxi Nel senso che Andiamo un attimo qua E vediamo se troviamo un altro taxi Perché non so come funziona Magari funziona come punti di osservazione Se non prendi Almeno una volta Non lo so Però è strano perché è un taxi Non è un punto di osservazione Guarda questo con Un madrassino Odiatore viscido Super pappone Ok Ah! 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 Uh! Ha buttato la libreria, la bimba! Uh! 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 Forse sono stati i genitori. Uh! Forse quello l'uomo in giacca e cravatta era il padre. Eia! No! 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 Ah! Infatti dopo ci andiamo ma non adesso. Perché? Ehm... non è cosa però possiamo andare un attimo qua fuori a vedere dove si fa la missione però vedete i taxi stanno solo qua qua non ce ne stanno taxi e manco qua e manco qua andiamo a fare la missione vediamo se questo c'è il sushi secondo me non ce l'ha a meno che un madonna no ma queste cose sono cose che si consumano al momento quindi questo set di sushi lo dobbiamo comprare dobbiamo andare da hello world perché questo ci vuole parlare ricordiamoci che se troviamo un parco dobbiamo vedere se ci sono gli insetti aspetta qua c'è una rossa forte facciassi una uova bastone silvestre bastone silvestre attacco 11 vede il massaggio elettrico enorme quello che c'è più attacco di tutti 67 e adesso ce n'è a poco probabilmente questa è una cosa che dobbiamo vedere adesso il lavoro fa il cocktail però se ne facciamo prendere la chitarra come lavoro poi dopo la può la può prendere questa chitarra da esibizione no perché funziona solamente con gli altri dobbiamo capire forse adesso ce lo spiega la Yoko Hama Trading Company questo qui ricordiamoci che adesso dobbiamo andare ci dobbiamo far assumere per entrare a vedere dove si trova quell'altra famiglia perché noi temiamo che quell'altra famiglia che non mi ricordo come si chiama quella lì che ha ucciso il tizio della Soprend ok è in questa in questa trading company sembra che abbiano che vendano cibo di prima qualità a Chinatown alla Chinatown ricca però questo qui dice che probabilmente non usano tutta ah cibo di buona qualità a un prezzo bazzissimo vedi questo qui non si capisce come facciano a guadagnarci quindi forse gli ingredienti costano poco chi ha certo che ci andiamo a qualcosa con quello ecco ma come siamo a verde abbiamo 60.000 yen critica forse qui ci dice la storia dei lavori consegnare un lavoro a Kazuga e i membri del suo gruppo da Hello Work ogni lavoro prevede attacchi speciali e tecniche utili per cui scegli il lavoro più adatto a ogni situazione quindi il lavoro sarebbe la classe del personaggio facendo pratica in vari lavori lo stato e le abilità di Kazuga e dei membri della squadra miglioreranno quindi provi tutti e sviluppa i tuoi eroi trovo un nuovo lavoro la dobbiamo parlare con questa di Rika scusse me my name is Kazuga I know you're the director's favorite formerly homeless go-getter aren't you am I right in assuming that you're here to find work again now that Otohime land is shut down yeah so what should we do now since this is the first time you'll be using our services without going through the director let me explain yeah and thanks a bunch ok take a look then puoi cambiare il lavoro da Hello Work ogni personaggio ha il piatto a determinante lavoro per cui scegli quello giusto per ogni membro del gruppo scusa il tizio deve fare il tank noi facciamo il teppista la ragazzina fa tipo il caster e quell'altro fa il cuoco facendo progressi nella storia principale sbloccherai nuovi lavori tuttavia per scegliere un lavoro dovrai soddisfarne i requisiti i personaggi indossano un uniforme associato al lavoro che svolgono puoi scegliere liberamente tra gli uniformi disponibili valore valore lavoro eroe lavoro eroe lavoro eroe però guarda se facciamo il freelancer diminuiamo punti salute diminuiamo tutto perché probabilmente il rango è 5 ma ma quanti lavori ci sono per questo ah y controlla le tecniche oh e queste ce le dobbiamo vedere allora vediamo un'amba va che lavoro può prendere questo è il break musicista allora facciamo che faremo così giusto non normale cambierà lui ok a daci andiamo a fare l'agente faccio fare l'agente essa eco barista hostess e idol e e e e e e e Facciamo un gifale la idol, dai, ah vediamo pure i vestiti, no! Oh! Ok! 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 C'è in part due to how I'm only able to offer you easy jobs right now, and because I'm the one handling all the paperwork. Just keep that in mind. Ah, sure. I'll remember that. And that'll do it, I think. Now, as for that part-time job at the Yokohama Trading Company which you and the director spoke about, they called us to say you were hired. No, really? Yes. They'd like to start you straight away. Right now, even. The warehouse you'll be working in is north of Hamakita Park. It's not exactly walkable, so I'd recommend taking the train. Got it. Thanks, Ririka-chan. We'll be back when we need to change jobs. Looking forward to it. Ririka-chan? I'm glad you're so excited. Please come by anytime. I don't know what they mean. I don't know what they mean. I'm glad I met. Oh. Oh, look at this! There's a guy here, there's one here, one here, one here and one here. adesso facciamoci un attimo affrontiamo questi non è un genio nemico usando la vostra e il microfono faccio il microfono runder che fa però ragazzi adesso dobbiamo cambiare l'equipaggiamento di tutti quanti ah namba già c'era andata la chitarra scusa vediamo se ecco e dobbiamo comprare anche un casco seco continuiamo appena troviamo un altro negozio di armi continuiamo presidente la casa di scari eh oh hey eh siamo diventati famosi wow wow oh dobbiamo picchiare collaboriamo che sta cercando questo è impossibile che combattiamo contro quello no sup eh ah quanto vuoi per tutto so Sop! Abbiamo inventato l'ardone! Come ti sentiamo? No! Non! No! Ma veramente dobbiamo combattere contro questo! Uomo si può avventure! Sop! All'interno! 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 No! No! prima si ci si sono nel gruppo più i danni sono elevati attacchiamo normalmente questo è di livello 9 ma dove si avviava quindi trango e trango del livello lavoro oh hey you ever thought about getting rid of all this trash yeah but it's not just trash it's memories of my wife memories I used to run this place with my wife we didn't make much but life was good right I heard this place used to be legit then one day my wife collapsed while tending the store by the time they found her it was too late and she passed on despite her health she worried about the shop until the very end and the worst part is that I was off goofing around while my wife was hard at work here at the shop if I had just been at the shop that day she would have lived go me son I tried to keep the place going by myself but then a thought crossed my mind when I was helping a customer what if she appraised this how much she have felt about it I asked thinking about it that way I started to see everything in this place like it still had a little piece of her but from then on I got too scared to throw anything away I feared I might end up throwing her away somehow the stores looking like this I kept telling myself it was merchandise but I could never bring myself to sell it I knew I was being unreasonable but I just I can't say goodbye to these things they're all I have left of her yeah I get how you feel and I'm sure it was tough losing your wife but what about all that your wife worked so hard for huh what about that I didn't even notice this place was a shop until someone pointed it out to me all I saw was a pile of trash the place you to work so hard to protect is so covered up nobody even knows it's here if anything has a memory of your wife in it it's none of that shit out front I'd say it's the shop itself yeah oh Gomi-san I think maybe it's time to bring this place back to its former glory oh oh yo 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 I've contacted the office they'll be out here to start cleaning up soon I'm so sorry for letting things get like this I want to tell that to your neighbors instead of me what are you gonna do now I'm going to get everything looking like new and open up shop again my wife gave her all for this place if she's still watching over me I should make sure it's something we can both be proud of yeah maybe I'll stop by and pay you a visit sometime Kasuga-san thank you very much I think my manager is going to be real pleased after today here this is a token of my appreciation a monito della fiamma thanks and keep up the great work at the welfare division man if you ever get promoted maybe you can sneak a little more meat into the pork soup at the soup kitchen all right I'll see what I can do anyway I think I'm gonna take off see ya yeah take care mhm I should give this cleaning up in a shot one of these days ah è finita già al banca di impegni potrai vendere qualunque cosa a parte degli oggetti di valore vendere oggetti che non ti servono in modo più efficace per guadagnare in fretta aspetta questo qua dove sta il tizio eccolo qua voglio vendere e ma come facciamo a capire quali sono le cose che possiamo vendere no no voglio comprare combattimento combattimento ehm compriamo un casco così ce lo diamo alla ragazza che sta senza casco e questo veramente nessuna munizia andiamo a trovare un altro altro vecchietto come ci hanno fatto un cento di danni e adesso ciò manderò anche punti saluta perché i primi ranghi si dovrebbero fare più velocemente la mia scala faccio ragazzi non fa un sacco di danni di nulla adesso dappi vanno questi dici su ma madre adesso del papà è solo picchiato lo picchiamo su mondo allo hey ma no ma veramente ma a meno che non è di livello grande questo qua a me Ok. Vuoi dire che hai scoperto il tuo figlio di bambino? E stessi cercando di scoprire l'ultimo uomo? No, non è così! Il padre ha lavorato davvero difficile da quando la mamma è morta. Non posso scoprirlo per lo scoprire. No, non importa il motivo, un parente che scopre il tuo figlio di bambino ha scoperto a essere un parente. Vedete, questo qui invece l'hanno messa in dialogo. Dopo il giorno che abbiamo detto ciao a tua madre, ho fatto tutto ciò che posso per assicurare per te. C'era tutto per te, ma... magari è stato un errore. Tu sai, ho sentito che siamo molto similii, tu e io. E ho anche avuto una famiglia prima che finisci sulla strada. C'è un figlio proprio come Shotokun. Per esempio, ho cresciuto in una famiglia come figlia. Quindi ho lavorato da mattina fino a mattina per assicurare che i miei figli non potrebbero passare la stessa cosa. Non ho mai pensato come potrebbero effettare la stessa cosa. In fine, la mia famiglia mi ha scoperto. E qui ho sono. La mia famiglia mi ha scoperto di quello che era davvero importante. La scoperta è una parte naturale della vita. Alcuni scoperta puoi prendere. Alcuni scoperta puoi prendere. Alcuni scoperta puoi non. Ancuni scoperta puoi prendere. Ancuni scoperta puoi prendere. Un scoperta? Un scoperto premiamo. Poi, sei sicuro di quella stessa scoperta? Perchè, cosa è Ñveco? Se siieldo dei loro ciascuno, ti aiutano una scoperta per si? Ora che guardo, non è stata una gialla scoperta a scoperta. Poi! Questa è finita la West ragazzi! Sicuro! sono tutti contenti Pietra del Sacrificio Mh-hm è il pensiero che conta perfetto questo qua ancora ci dobbiamo portare però un secondo perché è giallo e cioè no è blu se ancora ci dobbiamo portare il sushi vediamo un secondo dobbiamo capire dove sta sto sushi vediamo che dicono i tizi qua probabilmente è l'ultima parte della quest vabbè andiamo in giro però mica le possiamo andare a picchiare dovresti rimettere un poco a posto oh basta che ti fai la barba e ti sciacchi la faccia grazie 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 però evidentemente non finisce qua la quest vediamo che ci dice la tizia secondo me ci dà qualche cosa e non penso che aspettate un secondo abbiamo preso una moneta della fiamma che da più 10 questo qui dimoriamo ci risuscita ma non lo possiamo utilizzare adesso andiamo a vedere che troppo adesso forse non gli hanno detto che non si corre quando si attraversa la strada ah questo qui è chiuso questo locale vediamo un attimo questi tizi qua dovrebbe essere un po più forte vedo andiamo a fare questo mega colpo a questo riduzzo l'attacco di tutti i nemici ma com'è mancato ok ma scudo gli altri erano in traiettoria in questo senso qua un'altra 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 Una chitarlata spaziale I'm up! You're weak! Let's go! Let's go! Let's go! Right! You're alive! This is our health! I'm okay! Good work next time! Moving up in the world! Nice! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Minatown! Che roba è? Forse dobbiamo andare sopra! Facciamo la ricetta! Ma questo non è il tizio... Ah, perciò c'è il simbolo! Ragazzi, questo qua è il tizio del... Che ci ha dato il coso del... Del Pokédex! Questo qua non si può andare! Scusa, è sotto... Aspetta, qua c'è un'altra ricetta! Unico fisico... E sotto che ci sta! Qui sotto non si può andare! Qua ci sta un'altra porta! Questo è un altro gioco, ragazzi! Ma io non so trovare questo gioco! Quindi non ci veniamo! Pure perché penso che è difficile! Andiamo dritto! Una ricetta! Ok, però abbiamo scoperto anche... Questa parte qui... Della mappa! Che mi sembra un ottimo passo avanti nella giusta direzione! Qui non possiamo fare niente! Qui non possiamo fare niente! Qui non so! Qui abbiamo... E qua? Andiamo a vederla... Dai! Unico, l'altro mi sa che sta un po' troppo in alto... Non so Affondiamo pure questi Ma che colpa? Siamo in auto, ah! Siamo in auto! Cosa è questo? Guarda, ma invece di mettere... che fa? Ho fatto dormire Viene spammareato Perché questi usano un burtello di mano? Il tizio... E' quasi morto pure Allora, ascoltiamo Viene spammare Ah, vedete? Così possiamo... Vi corre dell'eroe Ah... Sassunaridee Sassunaridee Ah! Sassunaridee! Sassunaridee! Ok... 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 Sassunaridee! Sassunaridee! Sassunarebbe in una città di consigli In questo momento Sassunaridee! Allora abbiamo fatto! Ci forzzi non è un altro Quattro Certo, vivezza! Vieni! 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 facciamo questo qua di livello 12 ma che l'altro dobbiamo fare? ho spammato una aspetta, dovevamo curare la ragazza scusa, non possiamo andare dritto il problema è che c'è la stazione, forse se passiamo la stazione ci fa prendere la quest successiva no, forse non passiamo la stazione contiamo, questo ci ho 5 però questo è di livello basso la tua colpa è questa dovrebbero morire tutti quanti adesso possiamo fare il rapporto perché forse abbiamo abbiamo affrontato un certo numero di nemici aspetta un secondi, passiamo qua perché sennò prendiamo la quest no, questo è il titolo della ragazza si è messo a vendere i fazzoletti giovane cattivo no, questo è il titolo di non ok, adesso voglio vedere un'ultima cosa ragazzi no, abbiamo detto la farmacia stava qua andiamo a vedere solamente se per caso lì ci sta il sushi e poi dopo penso che terminiamo la puntata qui e parcheggiamo esattamente dove stavamo così nella prossima puntata iniziamo, siamo vicini alla quest principale vediamo vediamo set sushi non c'è bisogna capire dove sta questa cosa del sushi perché sulla mappa non ce lo dà e poi ci sta uno dei lavori che è una sfida che possiamo consegnare anzi vediamo un attimo questa sfida che possiamo consegnare errore part time che pista cappello di paglia ce ne sta proprio uno qui vicino che è andiamo alla dai e ci dobbiamo andare perché consegniamo la quest e poi dopo voglio vedere pure con l'altro negozio se per caso dovesse avere il set sushi secondo me non ce l'ha ci sono le strisce ci sono le strisce e affrontiamo pure quanto siamo ancora siamo arrivati affrontiamo sul gruppo da 5 livello 12 ci sono le strisce non è che questo caccio tesoro se insisti allora prendiamo da questo rapporto ok grazie grazie perfetto questo qua lo potremo anche consegnare però lo facciamo domani perché domani andiamo alla stazione di Junnai e poi andiamo a vedere come proseguire nel gioco ragazzi io vi lascio una buona serata e ci vediamo domani con un'altra puntata di Let's Play di Yakuza Like a Dragon ciao